Oh, sono stressato, non riesco a fare questo e non riesco a fare quello. Vatti a vedere sul mio profilo la mia giornata tipo da ragazzo. Ci sono due tipi di persone che hanno commentato, ed è puffo. I classici geni che scrivono E' impossibile dormire solo 5 ore al giorno, bla 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 bla. Ed il restante dei commenti sono nuotatori e nuotatrici che hanno provato invece sulla loro pelle tutto ciò che io ho detto. E che ovviamente mi hanno dato supporto, e mi hanno capito. Il punto è che, se sei stressato e non riesci a portare avanti le tue ambizioni, è colpa tua. Se quella è una vera passione, un vero sogno, un vero obiettivo, devi farti il culo per raggiungere quelle cose là, per raggiungere gli obiettivi. Nessun altro compierà quelle azioni stressanti al posto tuo, per quale ragione dovrebbe farlo. Quindi wake up, smettila di perdere tempo, il tuo unico focus deve essere quello di realizzare quel sogno. E solo così un giorno potrai rilassarti e dire Ah, ce l'ho fatta! E penso che ne valga la pena, anziché passare le giornate su TikTok o direttamente sotto le coperte e non fare assolutamente nulla o trastullarti.